Ciao a tutti amici di Hollywood, oggi è la vigilia del giorno più mostruoso dell'anno, a Halloween e ci troviamo qui nel meraviglioso centro commerciale di Nola, il nostro bellissimo Area Space, ringraziamo tutti i negozi che oggi ci hanno ospitato e vi ricordiamo di rimanere connessi perché ci sarà una giornata piena di divertimento solo per voi. Ciao amici di Hollywood! Grazie a tutti! Ciao amici oggi ci troviamo con Vittorio! Vittorio da cosa ti travesti ad Halloween? Da diavolo! Da diavolo? Me la fai la faccia da diavoletto? Sì! Voglio la faccia da diavoletto, fammi l'espressione da diavoletto! Bellissimo! Vittorio qual è il tuo mostro preferito? Zombie! E allora voglio vedere anche come fa lo zombie! Guardate il nostro Vittorio! Noi vi salutiamo amici di Hollywood! Puoi salutare Vittorio! Ciao amici! Ciao amici di Hollywood! Oggi ci troviamo con... Come ti chiami? Adda! Che bel nome! Da cosa ti sei travestita? Adda! Ha ragione! Lei si chiama così e quindi sei travestita da se stessa! E di qua abbiamo... Come ti chiami? Ginevra! E di qui come ti chiami? Alessandra! Alessandra ti sei travestita da? Famberina! Wow! Come siamo mostruose! E l'ultima ma non per importanza! Come ti chiami? Daniel! Guardiamo di là! Guardiamo di là ragazzi! Adesso dobbiamo fare un super saluto! Va bene? Ciao amici di Hollywood! Salutiamo! Tutti insieme! Tutti insieme! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao amici di Hollywood! Ciao amici di Hollywood! Adesso per allietare i nostri ospiti un super momento super emozionante! Soltanto per voi! Johnny Sucks! Ciao amici! Ciao amici! Qui siamo a piedi ragazzi! Tanti bambini! Tante persone che si vogliono divertire! Ma adesso linea al nostro Saverio! Ciao Saverio! E da te come va? Ciao! E qua tutto bene? Buongiorno! Eccoci qui amici siamo pronti! Guardate dove vi ho portato! Guardate dove vi ho portato! Siamo al Conad a Casa Marciano per festeggiare due giorni di paura e divertimento! Voglio auguri! Buon Halloween! Noi siamo qui! Mancate solo voi! Ciao amici! 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 Ragazzi dobbiamo fare un saluto e dobbiamo dare un augurio a tutti! Ci sei?! Vai! Auguri a tutti! Suggerimento di mamma! Manda un augurio diverso e speciale come vuoi tu! Auguri mamma! Auguri ragazzi auguri a tutti! Tu ti chiami… Carmen Carmen, ma dici un po', facci il verso di un mostro spaventoso Come, 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 aspetta, rifallo, rifallo 3, 2, 1 Ah, ma no, che paura Meno male che dovevamo farli spaventare È andata così, va bene Ciao ragazzi Altyazı M.K.